Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, bentornati al nostro appuntamento del lunedì con Check Up Obiettivo Salute. Questa sera incontreremo un dottore che non abbiamo mai visto prima, infatti non ha partecipato al primo ciclo di trasmissioni di Check Up, quindi è con noi questa sera il dottor Marino Brunori. Pensate che il dottor Marino Brunori è un ematologo, ma la domanda c'era sorta spontanea anche a noi, ma in un luogo come questo, Fisioradi Medical Center, dove si lavora su tantissimi aspetti, primo fra tutti quelli legati alla riabilitazione, all'attività fisica, un ematologo. Cosa c'entra? In realtà c'entra, c'entra tantissimo perché? Perché ci parlerà di una patologia molto comune che in realtà non è altro che il campanello di allarme collegato ad altre possibili patologie. E siccome qui a Fisioradi Medical Center, come sapete, come avete visto nel corso di queste tante puntate, afferiscono tanti specialisti e ognuno di loro tratta una particolare branca della medicina, ecco che anche l'ematologia si inserisce perfettamente in questo contesto. E siamo col dottor Marino Brunori nello studio allestito per noi a Fisioradi. Dottore, buonasera. Buonasera. Il dottor Brunori, come vi abbiamo detto, è un ematologo. Questa disciplina della medicina è importantissima perché riguarda il sangue. Il sangue è il nostro veicolo di vita all'interno di tutti noi, ci scorre nelle vene, nelle arterie, in tutto il corpo, in tutto l'organismo. Ci possono essere però delle situazioni ovviamente legate a patologie relative al sangue. Una di queste è una patologia che si chiama poliglobulia. Dottore, di cosa si tratta esattamente? Allora, la poliglobulia, come dice la parola, è un eccesso di globuli rossi. In realtà dire poliglobulia vuol dire dire aumento della viscosità del sangue, cioè della densità del sangue. Ovvero, noi sappiamo che il sangue è liquido, all'interno di questo liquido c'è una parte corpuscolata che è costituita prevalentemente dai globuli rossi. La poliglobulia è l'aumento della parte corpuscolata rispetto alla parte liquida. Questo, diciamo, questo aumento e questa proporzione tra la parte corpuscolata e la parte liquida si chiama ematocrito. Quindi la poliglobulia si definisce come aumento dell'ematocrito, quindi l'aumento della densità del sangue. È ovvio che una poliglobulia è una patologia ematologica, quindi di cui si occupa l'ematologo, ma è una patologia trasversale, ovvero è una patologia che è un'alterazione del sangue che può essere molto spesso secondaria a tante situazioni, alcune di esse fisiologiche e alcune di queste ovviamente patologiche. Faccio un esempio. una persona che vive in alta montagna, sappiamo che in alta montagna c'è meno ossigeno e quindi i globuli rossi trasportano ossigeno e è ovvio che l'organismo di quella persona ha bisogno di più globuli rossi e quindi in alta montagna è normale trovare una densità più alta del sangue perché l'ossigeno è di meno e quindi i globuli rossi devono trasportare più ossigeno per dare la capacità all'organismo di sopravvivere anche in alta montagna. E questa è una situazione fisiologica. Poi esistono delle situazioni secondarie che non sono fisiologiche, per esempio una persona che ha una patologia polmonare cronica, noi sappiamo che il polmone serve per fare gli scambi di ossigeno e quindi una persona che ha una patologia polmonare scambia meno ossigeno, come meccanismo compensatorio l'organismo, quindi il midollo che è la fabbrica poi di globuli rossi, si mette in moto per aumentare appunto la produzione di globuli rossi in risposta a una problematica di tipo polmonare. Questo è un meccanismo di compensazione che fino a un certo punto ha un valore e ha anche un valore nel compensare questa mancanza, poi oltre un certo valore in realtà diventa anch'esso un problema da affrontare perché una densità troppo elevata è un circolo vizioso per cui peggiora ulteriormente la situazione dell'ossigenazione perché il sangue poi trova più resistenza e quindi scorre meno bene. Ed è uno dei motivi per il quale l'ematocrito era un vocabolo conosciuto dagli sportivi, soprattutto in riferimento ad alcune pratiche poco ortodosse legate proprio all'aumento dell'ematocrito. In teoria aumenta il trasporto d'ossigeno, conseguentemente il fisico fatica di meno nell'ottenere un risultato soprattutto muscolare, però comporta anche gravi rischi per la salute. Ovvio. In quella situazione si utilizzava per produrre più globuli rossi una sostanza che si chiama eritropoietina. L'eritropoietina è un fattore di crescita, un enzima che stimola la crescita dei globuli rossi in maniera semplicistica, però è così, e quindi veniva utilizzato per aumentare l'ematocrito, quindi la quantità di globuli rossi, quindi la quantità di ossigeno e sentire meno la fatica. Questo ovviamente era il lato buono della medaglia. Il lato cattivo della medaglia era che aumentando appunto questo l'ematocrito aumenta la densità del sangue e aumentando la densità del sangue si aumentano le resistenze e aumentando le resistenze si è più soggetti appunto a fare malattie. Malattie quali l'ictus e quali l'infarto, quindi non malattie banali. Ecco, e quindi diciamo la pratica era poco ortodossa. È poco ortodossa nel senso che comunque era addirittura perseguita. Ci sono purtroppo esempi di tantissimi campioni che sono in corsi in questa disavventura e hanno avuto grandi problemi nelle loro carriere. Si chiamava proprio doping in questo caso. Dottore, il fumo influisce, può influire su questo stato del sangue? Il fumo può assolutamente influire su questa cosa perché chi fuma ha comunque una, e soprattutto chi fuma un numero considerevole di sigarette, a lungo andare ha dei danni al polmone e questi danni al polmone si possono manifestare anche con una poliglobulia. Quindi molto spesso la poliglobulia può essere anche secondaria a un eccesso di utilizzo di fumo o di sigaretta, che è appunto però riconducibile sempre nelle problematiche di tipo polmonare. Ma ci faccia dire una cosa, dottore, ce lo diciamo fra noi. Chi glielo fa fare il fumatore di fumare? Sapendo quanto fa male a tutti i distretti dell'organismo? Quanti soldi poi si buttano via praticamente per farsi male? Facciamo un appello per far sì che non si fumi. Allora, io comincio la mia anamnesi, quindi il mio rapporto con il paziente, con due domande. La prima è che lavoro fai, ovviamente perché mi serve per relazionarmi con chi ho davanti. E la seconda domanda è se fuma. Perché molte delle problematiche poi per cui afferiscono agli ambulatori è correlata al fumo. E quindi direi che la sua domanda è più che mai considerazione più come opportuna. Il fumo sarebbe da abolire. Però capisco anche che la nicotina è una delle sostanze più difficili da... che dà più dipendenza. Più dipendenza, certo. Quindi più difficili purtroppo da allontanare da se stessi nel momento in cui... Però come dico sempre anche al paziente, il tuo organismo ti sta dando dei segnali. Che uno di questi può essere la policolvuria. Cerca di cogliere i segnali perché al primo segnale magari si può ritornare indietro. E poi invece un segnale ulteriore potrebbe essere un segnale da cui è difficile tornare indietro. E questa malattia, questa poliglobulia comunque va tenuta sotto controllo. Quindi bene fare analisi, bene fare esami e anche con una certa ricorrenza. Esatto. Allora in realtà la poliglobulia secondaria, che è questa di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi secondaria a problematiche di tipo polmonare, noi pensiamo alle problematiche polmonari, appunto alle malattie, al fumo. Esiste per esempio la possibilità di avere delle situazioni che sono sempre farafisiologiche. Ad esempio il sovrappeso corporeo porta l'organismo a avere un'ossigenazione minore rispetto a un'altra persona durante soprattutto la posizione clinostatica, cioè durante la notte, il famoso russamento. Quindi le persone che sono molto in sovrappeso hanno una capacità di scambiare ossigeno molto inferiore durante la notte e questo per esempio porta alla poliglobulia. La poliglobulia non fa bene e quindi la poliglobulia va corretta. Va corretta in che modo? Va corretta togliendo il sangue. Noi sappiamo che il paziente ha troppo sangue, ripeto, è un meccanismo di compenso, però il meccanismo di compenso funziona fino a un certo punto. Al di sopra di alcuni livelli va tolto del sangue, cioè va fatto a quella che si chiama salassoterapia. E la salassoterapia serve appunto per riportare il valore di ematocrito al di sotto di alcuni livelli. Il problema della salassoterapia è che è ovviamente anche questo un circolo vizioso, ovvero l'organismo sente che viene tolto del sangue e quindi lo sente come stimolo per produrre ancora di più. E quindi la cadenza dei salassi può magari all'insorgenza della problematica essere abbastanza lunga, ma poi nel tempo può diventare sempre più ravvicinata. Quindi è bene sottoporsi a frequenti controlli degli esami, in chi sappiamo che ha la poliglobulia, per stabilire qual è la corretta correzione mediante i salassi. E questo, ripeto, vale esclusivamente per le poliglobulie, diciamo, idiopatiche o secondarie. Certo che se conosciamo il meccanismo che ha determinato la poliglobulia, la prima cosa da fare è rimuovere il meccanismo che l'ha determinata, ovvero sovrappeso corporeo, difficoltà a respirare, sottoporsi a una dieta per dimagrire. Il fumo è ovvio dirlo, sospensione del fumo. Questo ovviamente evita di sottoporsi a poi trattamenti, perché comunque devi fare un trattamento di salassi. Rimuovendo la causa spesso si può evitare anche i salassi. Quindi ovviamente anche in questo caso sembra appunto così, no, complicato, poliglobulia, aumento dell'ossigeno, sangue denso, in realtà gli stili di vita sono fondamentali, perché al di là dello stato patologico eclatante, magari conclamato in certe situazioni, ma uno stile di vita adeguato. Non diciamo che se ci sono delle tendenze poi lo possa prevenire del tutto, però ci andiamo vicino, dottore. Allora, il soggetto che viene da me per una poliglobulia spesso vuole che io gli dica che ha una malattia. Quando io dico ma lei fuma? Sì. Oppure è sovrappeso? È quasi un... ci rimangono quasi male che io gli dica che non abbiano una malattia. Non solo, ma quando gli do delle informazioni che sono volte a, diciamo, il calo del ponderale o alla sospensione del fumo di sigaretta, è quasi una non cura. Cioè è come se fosse venuto dallo specialista per sentirsi dire cose ovvie. Perché si aspettano invece un... esatto, o un farmaco oppure una diagnosi diversa. Che invece molto spesso, ripeto, la poliglobulia è secondaria a situazioni parafisiologiche, comunque che riguardano la vita di tutti i giorni, cioè l'alimentazione e il fumo. Esiste in realtà una problematica di poliglobulia che prescinde da tutto questo e che si chiama policitemia vera. In quel caso la poliglobulia è primitiva, cioè legata a un'iperproduzione da parte del midollo, ma è la minor parte rispetto alla maggioranza delle poliglobulie che invece sono secondarie ad altre situazioni. Che ne abbiamo citate ovviamente per motivi di tempo, solamente alcune. Questa policitemia, quindi la policitemia vuol dire midollo, che è la fabbrica dei globuli rossi, che funziona troppo perché funziona a prescindere dagli stimoli che vengono dall'esterno. Ebbene, la policitemia vera ha una caratterizzazione anche da un punto di vista genetico, quindi c'è proprio una mutazione per cui lo stimolo a generare i globuli rossi, prescinde da quello che è la stimolazione da parte dell'eritropoietina. E quindi i globuli rossi proliferano in maniera smodata. Anche qua ci sono ovviamente i salassi, però in questo caso si mettono in atto tutta una serie di trattamenti che sono poi volti a correggere anche la causa. Qui ci sono dei farmaci che vanno da semplici farmaci che agiscono sulla sintesi del DNA, ce ne sono diversi, uno è l'oncocarbide, poi ci sono farmaci invece molto più specifici che vanno proprio a bloccare quello che noi sappiamo che è il meccanismo che l'ha determinata. Però ripeto, questa è una quota minoritaria delle poliglobulie, la maggior parte delle poliglobulie va ricercata la causa perché sono secondarie. Perfetto, e sicuramente fra gli stili di vita c'è anche il movimento, chiaramente attività fisica che sappiamo porta benessere a tutti gli effetti e anche in questo caso fare attività fisica non può che portare bene al sangue e il sangue a sua volta portare bene a noi. Assolutamente, assolutamente. Dottore, grazie, è stato molto molto interessante. Considerate che l'abbiamo conosciuto quest'anno, il dottor Brunori, è stato per la prima volta ospite di CheckUp Obiettivo Saluti, siamo stati molto contenti di averla avuto con noi, dottore, buonasera. Buonasera, grazie. E non dimenticate l'appuntamento di lunedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.